Scrivimi Se vuoi parlare allora scrivimi, servirà sentirti meno fragile, quando nella gente troverai solamente indifferenza, tu non ti dimenticare mai di me. E se non avrai da dire niente di particolare, non ti devi preoccupare, io saprò capire, a me basta di sapere che mi pensi anche un minuto, perché io so accontentarmi anche di un semplice saluto. Ci vuole poco per sentirsi più vicini. Scrivimi Scrivimi Scrivimi